La Rebecca controlla di sotto Bene 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 Per quanto ne sanno qui non c'è nessuno Quindi se non ci hanno sentito Beh la cosa importante è non fare nessun rumore Porca puttana Kai era quello che non dovevamo fare E' accaduto Cazzo ora sanno che ci siamo No 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 tranquilli non succederà niente Non succederà Guarda 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 guarda